Quando ho cominciato a correre il mio sogno è stato subito quello di vincere. E tu? Ho sempre sognato di correre un mondiale in magliatura e il sogno si avverrà. Per far diventare in realtà i sogni delle associazioni sportive dilettantistiche di calcio, ciclismo, canottaggio, motoclub e sport del viaggio, Suzuki dona 40.000 euro. E con il giusto supporto che un dilettante di oggi può diventare un campione domani. Forza Davide, dobbiamo continuare l'allenamento. Se Carolina chiama mi tocca pattinare. E voi andate su suzukisport.it Suzuki